alluvione sesto giorno di ricerche per mattia e brunella a pesaro emergono scheletri medievali dai cantieri in piazza depoli e bentivogli duello per il senato del nord delle macche san sisto celebra il principe del bosco con la festa del fungo e vale foglia festeggia elisa regina europea di food volley buona serata e benvenuti al nostro telegiornale di oggi mercoledì 21 settembre una data che contrassegna il sesto giorno di ricerche ininterrotte per i due dispersi dell'alluvione che ha colpito l'entroterra anconetano si continuano infatti a cercare mattia luconi di otto anni e brunella chiù di 56 nella serata di ieri è stata ritrovata l'auto di brunella trascinata dalla piena del fiume nei pressi di corinaldo ma della donna non c'è traccia lo stesso dicasi per il piccolo mattia del quale negli ultimi giorni sono stati ritrovati zaino e scarpe questa sera le 21 la comunità di san lorenzo in campo paese della famiglia luconi si radunerà per una fiaccolata di preghiera e di speranza lungo le vie del borgo oggi pomeriggio invece enorme dolore e commozione per i funerali delle quattro vittime di pianello di ostra giuseppe e andrea tisba padre e figlio di 65 e 25 anni diego chiappetti di 52 anni e fernando livi di 82 sempre questo pomeriggio a tre castelli si è tenuto anche l'ultimo saluto all'ottantenne maria luisa sereni parliamo di vittime e di dispersi ma parliamo anche di tantissime persone che hanno la propria casa inagibile o la propria attività lavorativa azzerata una situazione disperata che vi abbiamo documentato in questi giorni nei nostri telegiornali nei nostri servizi da cantiano e che viene supportata dall'aiuto di tante persone vigili del fuoco protezione civile centinaia di persone comuni che si rimboccano le maniche per dare una mano ora arriva un altro aiuto quello psicologico l'assessore alla sanità filippo saltamartini ha annunciato poche ore fa che i camper vaccinali che hanno girato per mesi il nostro territorio nei mesi più bui del covid torneranno ora nelle strade dei luoghi alluvionati con team di psicologi che interverranno per dare supporto alle popolazioni dell'entroterra pesarese e anconetano in questo periodo così delicato ed ora cambiamo completamente argomento ci spostiamo a pesaro dove stanno generando stupore e curiosità i ritrovamenti di scheletri umani di epoca medievale che stanno emergendo proprio in questi giorni dal cantiere dei lavori di piazza del popolo ieri sono spuntati dagli scavi due teschi e diverse ossa vediamo in servizio stupore incredulità e curiosità stati d'animo che da ieri pomeriggio attorniano piazza del popolo dove il cantiere di rifacimento della pavimentazione previsto come da cronoprogramma sta somigliando sempre più ad uno scavo archeologico ieri sono infatti emersi dal terreno due teschi accompagnati da tracce di scheletro riconducibili a parte di spalle e torace e sono spuntati non lontano dall'angolo della piazza che affaccia sulla questura e su via giordano bruno oggi sono emersi altre tracce di scheletri vedete infatti in queste immagini girate questa mattina il rinvedimento di arti inferiori di appunto resti umani sempre riconducibili a quella che dovrebbe essere un'epoca medievale questo quanto emerso dai primi accertamenti degli archeologi della cooperativa e tecniche da ieri sono sul posto è una scoperta che si aggiunge a quella di pochi giorni prima quando a pochi metri di distanza davanti al palazzo delle poste sono emerse tracce di un muro largo più di mezzo metro risalente all'architettura medievale i teschi ritrovati ieri sono stati rimossi e portati in sede di laboratorio museale per essere analizzati anche attraverso studi antropologici sarà così anche per le ossa trovate questa mattina si continuano gli approfondimenti che però non inficeranno i lavori sulla piazza oggi all'assessore al fare riccardo pozzi abbiamo chiesto delucidazioni su come si concilieranno queste due esigenze i lavori previsti e anche le esigenze di refertazione scientifica di quanto emergerà e queste sono state le risposte a cominciare dall'analisi georadar che ha preceduto questi lavori già in primavera e che a quanto pare hanno non hanno fatto emergere questo tipo di scoperte che abbiamo trovato in questi giorni a marzo insieme sotto le indicazioni della sovrintendenza abbiamo insieme all'università d'urbino oltre che il cnr abbiamo eseguito il georadar delle rilevazioni che hanno consentito di andare a indagare approfondire sul sottosuolo a una profondità fino a oltre tre metri di profondità e hanno permesso di ricostruire alcune situazioni di epoca romana a una profondità ripeto di oltre tre metri che verranno poi anche divulgate in un'occasione di un incontro che stiamo programmando insieme alla sovrintendenza e al cnr e all'università d'urbino nel frattempo qua stanno proseguendo i lavori di pavimentazione stanno proseguendo sotto la direzione scientifica della sovrintendenza e ci sono stati in questi giorni anche tanti curiosi a diciamo a vedere le a vedere appunto questi scheletri quello che sta emergendo ma ripeto sono tutte finalità in questo momento di documentazione che proseguono proseguiranno senza interrompere lavori che quindi consentiranno poi la normale esecuzione dunque ci sono tutte le condizioni per far proseguire i lavori da cronoprogramma come stanno proseguendo anche oggi e conciliare anche le necessità di refertazione scientifica di tutto quello che emergerà esatto in questo momento stanno si stanno conciliando due tipi di attività uno quella di rifacimento della pavimentazione e quindi sì che proseguiranno anche nelle prossime settimane che vedranno dai primi giorni della prossima settimana l'arrivo dei san pietrini e dei cordoli per l'installazione appunto della della nuova pavimentazione e al tempo stesso procedono anche l'attività di documentazione di ricerca posta in essere dagli archeologi individuati insieme alla sovrintendenza della insomma archeologica si lavora poi con la massima trasparenza tant'è che si sta pensando anche a momenti dedicati per la divulgazione scientifica di quanto si sta scoprendo esattamente proprio così stiamo ragionando insieme alla sovrintendenza proprio per individuare delle giornate o a fine lavori quindi con un convegno aperto al cittadinanza oppure individuare durante queste fasi di continuo cantiere di continua scoperta anche dei momenti di approfondimento e di divulgazione modo informale aperte tutti i curiosi ai cittadini che in questi giorni ci stanno chiedendo tanto in modo tale che si possa fare chiarezza se in modo molto trasparente come detto senza alcuna volontà di nascondere o o di dover compromettere la storia della nostra città ma al tempo stesso di poterla raccontare proprio nel momento nelle fasi nelle fasi di contemporaneità rispetto alle scoperte che si stanno alle scoperte gli studi che si stanno facendo continua la marcia d'avvicinamento alle elezioni del 25 settembre con una nostra intervista ad antonio depoli presidente dell'udc inserito nella lista noi moderati come candidato al senato del centro-destra per le province di pesaro urbino e ancona senatore depoli si avvicina alla data del 25 settembre della chiamata le urne ed è una marcia d'avvicinamento condizionata anche da questo evento imprevisto questa catastrofe atmosferica che aggiunge un'altra emergenza alla lista di azioni del governo attuale che ha fatto un primo intervento ma anche di quello prossimo alla luce anche della sua campagna elettorale sicuramente sì oggi va la nostra solidarietà il nostro sostegno e la nostra vicinanza a tutte le famiglie che hanno perso i propri cari e a tutte quelle che sono state danneggiate assieme con le aziende di quel territorio il governo il governo ha intervenuto un primo intervento non sufficiente oggi dobbiamo chiedere maggiore risorse e anche una legislazione che permetta di far sì che queste risorse vadano immediatamente velocemente a ricostruire questo territorio non possiamo rivedere le incompiute quindi potremmo anche pensare a un modello ponte morandi nel senso con una legislazione dove si può intervenire immediatamente per dare le risposte a tutto il territorio questo credo sia uno degli aspetti importanti e fondamentali che abbiamo di fronte questa è un'emergenza che si aggiunge a quella che poi possiamo definire un'emergenza sociale che si sta creando con il caro energia una combinazione un circolo vizioso che rende complicato anche capire quali sono le priorità di intervento quali sono secondo il suo punto di vista ma intanto per contribuare all'energia immediatamente un tetto europeo al prezzo del gas la divisione tra l'aspetto del gas i costi del gas e quelli dell'energia elettrica e poi anche qui un intervento strategico del governo italiano per far fronte a quelle che sono le migliaia di aziende che corrono il rischio di chiudere se parla che nelle marche siano circa 6.000 con 18.000 addetti senza lavoro non c'è dignità quindi io credo che bisogna assolutamente aiutare le aziende e di conseguenza vanno aiutate le persone le famiglie per poter continuare a vivere con la dignità di ognuno di noi quali sistemi di tutela del sistema produttivo si possono ipotizzare ma i sistemi ci possono essere più di uno io credo che oggi serva come dicevo prima un intervento strategico che il governo deve fare poi dopo il tetto sui prezzi dobbiamo intervenire con aiuti direttamente alle imprese anche con fattori di defiscalizzazione ma aiuti anche diretti a imprese e famiglie credo che questo sia l'aspetto prioritario in una regione dove al di là del problema che oggi è un'emergenza quella del caro energia c'è anche un'emergenza delle infrastrutture mancano tutta una serie di infrastrutture a partire da porto aeroporto interporto alta velocità ferrovia e anche nodo stradale credo che su questo ci sia un intervento strategico che l'asse con la tra la regione e l'asse con il governo di roma diventa oggi essenziale ed è uno dei motivi dell'impegno anche del sottoscritto rispetto a queste problematiche due emergenze abbiamo purtroppo se ne è giunto un altro quello di questi giorni parliamo anche di giovani c'è un sentore anche di disaffezione a volte per la politica secondo lei la politica sa ascoltare questa fascia d'età della popolazione e quali sono anche i riscontri che ha avuto nella sua campagna elettorale guardi io credo che i giovani rispetto a molte a molte persone che credono che non abbiano interesse per la politica per la pubblica amministrazione per il bene comune oggi i giovani hanno un grande interesse per tutto questo bisogna solo saperli prendere ripartendo anche dalla formazione dalla formazione politica dalle scuole di formazione credo che questi siano gli aspetti principali dobbiamo dargli la fiducia per il futuro se riusciamo a dar questo fiducia ai giovani riusciamo a dare fiducia anche i propri genitori e di conseguenza anche a tutto il tessuto socio economico di questa regione partiamo dai giovani per arrivare ai nostri papà alle nostre mamme ai nostri nonni credo che questo sia l'aspetto del futuro anche con molta serenità da un punto di vista ma altrettanto con la volontà di far sì che questo avvenga sul fronte del centro-sinistra il rivale di depoli nella corsa al senato nei collegi di pesaro ancona è marco bentivogli ex segretario dei metalmeccanici cisle ieri sera in piazzale collenuccio bentivogli ha fatto il punto sulle più pressanti proposte elettorali alla presenza di tanti ospiti del partito democratico emergenza alluvione caro energia sono questi due i temi principalmente trattati ai quali hanno voluto dare una tempestiva risposta alcuni esponenti nazionali del pd nell'incontro di ieri sera in piazzale collenuccio a pesaro incontro al quale hanno dato voce alle loro idee il sindaco matteo ricci marco bentivogli candidato alla lista uninominale al senato per la provincia di pesaro valeria mancinelli sindaco di ancona giordano masini candidato all'uninominale alla camera per la provincia di pesaro giorgio gori sindaco di bergamo e rene tinagli vice segretaria del pd partito democratico è l'unico che ha dedicato la parte più una delle più importante il proprio programma all'ambiente all'emergenza climatica e io sono basita a vedere che ci sono forze politiche come quelle di centrodestra che continuano a negare il cambiamento climatico e l'emergenza climatica e la necessità di fare un investimento fondamentale nel nostro territorio per l'ambiente quindi questo credo che debba essere una diciamo un campanello d'allarme l'ennesimo a cui dobbiamo reagire in maniera strutturale ovviamente ora stanziando tutte le risorse necessarie per far fronte all'emergenza ma non possiamo continuare ad affrontarlo solo nell'emergenza quindi serve davvero cominciare a ragionare in chiave preventiva e ragionare su tutta la filiera quindi cambiare il nostro modello produttivo per impattare meno sull'ambiente per ridurre le emissioni e avere una produzione più sostenibile questo nel lungo periodo fenomeni che si verificano con maggiore frequenza con sempre più violenze sono le conseguenze come sappiamo di una modifica del clima che alterna dei periodi di grande siccità delle precipitazioni violentissime e credo anche del fatto che abbiamo lasciato un po' in disparte impegno a provvedere ad interventi sul sul riassetto idrogeologico che in questo caso secondo me noi dobbiamo a cui dobbiamo dare priorità del resto non credo che si possa lavorare solo sulla sul contrasto del cambiamento climatico sulla riduzione delle emissioni dobbiamo mettere in piedi anche delle politiche di adattamento perché comunque questi fenomeni ci sono sono destinati a essere più frequenti nei prossimi anni quindi io penso che questa debba essere una priorità per il prossimo governo le bollette si sono quadruplicate per tutte le famiglie a fine di agosto per le imprese per le famiglie si è arrivati da circa 1,6 euro metro cubo di gas il rischio è che senza interventi quelli che chiediamo immediati sul tetto del gas europeo sul canone sociale delle bollette sul credito dell'imposta delle imprese rischiamo di avere a ottobre il metro cubo di gas oltre i 3,50 euro e questo significa un aggravio per le famiglie un rischio anche per il lavoro sta crescendo le domande di cassa integrazione e su questo la politica deve occuparsi in maniera concreta e immediata. Prospettive e aspettative in questi ultimi cinque giorni prima del voto? Innanzitutto che le persone vadano a votare il diritto di voto lo abbiamo conquistato con tanti sacrifici non esiste non c'è in tutto il mondo il diritto di voto ci sono tante dittature e bisogna invece difendere la nostra democrazia intanto andando a votare ma soprattutto andando a votare con consapevolezza guardando quelli che sono i candidati e sapendo che si eleggono senatori e deputati e saranno quelli che ci rappresenteranno per cui l'invito a cercare di guardare le storie personali le coerenze e quanto sia in grado di rappresentare il territorio. Contrastare i cambiamenti climatici deve essere un tema centrale delle azioni del prossimo governo lo reclamano i giovani di Fridays for Future che venerdì 23 settembre organizzeranno una nuova manifestazione per porre l'attenzione globale sullo stato di sofferenza del pianeta una manifestazione nazionale per la quale giovani associazioni del territorio si danno appuntamento per venerdì in piazzale della libertà a partire dalle 8 e 30 di mattina. Il 24 e il 25 settembre si svolgerà la ventitresima edizione delle giornate nazionali dei castelli nel territorio pesarese ad essere coinvolta nell'iniziativa sarà la Rocca de Magnale di Gradara con un calendario ricco di convegni e appuntamenti a tema che si affiancheranno alle giornate europee del patrimonio. Sabato 24 settembre in occasione della settimana europea dello sport i comitati WISP e CSI di Pesaro Urbino organizzano una giornata di gioco e sport a Pesaro in piazzale della libertà a partire dalle 18 si tratta di un'iniziativa comune dei due enti di promozione sportiva che puntano a coinvolgere tutta la cittadinanza attraverso un messaggio semplice l'importanza di socializzare attraverso il gioco e lo sport. La palla di pomodoro sarà dunque popolata di biliardini, tiro alla fune, esibizioni di danza e diventi postazioni di giochi tradizionali costruiti con materiale di riciclo. L'atleta di Tecundo Greta Bartolini, la tennista Elena Foglietti e il pallavolista Andrea Vagnini sono questi gli studenti atleti di Vallefoglia che hanno vinto le tre borse di studio da 800, 400 e 200 euro messe in palio dalla società sportivo K-Sport Montecchio e dallo sponsor Corrado Conti, padre del giovane calciatore Stefano, per tutti Teto, alla cui memoria è stata dedicata la seconda edizione di questo riconoscimento. Nella piazza di Montecchio si è infatti svolta la cerimonia del premio per i tre studenti atleti meritevoli, scelti fra una rosa di 30 candidature pervenute. Il premio è stato anche l'apertura della Sagra della Polenta di Montecchio, sagra che potrete rivedere nello speciale che Rossini TV trasmetterà domani giovedì 22 settembre alle 21 e 20. E torna a uno degli appuntamenti più caratteristici dell'autunno del nostro entroterra, stiamo parlando della festa del fungo di San Sisto che nei prossimi due weekend proporrà la sua 53esima edizione. Sono quattro giorni di grandi eventi che si svolgeranno a San Sisto, ma non solo, in tutto il territorio del Monte Feltro, dove si susseguiranno tanti ospiti, tante anche orchestre, ma quello che ci interessa molto da vicino è che ci sarà anche un'offerta gastronomica interessante gestita dai ristoratori del Monte Feltro, perché poi alla fine chi trasformerà un'eccellenza come il fungo di San Sisto e lo tramuterà in un piatto della tradizione, speriamo anche questo, sono i ristoratori. Perciò avremo un'offerta in quei giorni, stiamo parlando del 24-25 settembre e dell'1-2 ottobre, dove oltre agli eventi si potrà gustare non solo i funghi ma tutti i prodotti tipici del territorio del Monte Feltro. Monte Feltro sul quale Confesercenti da anni sta lavorando, insieme alla compagnia del Monte Feltro, altra associazione nata da Confesercenti, stiamo lavorando sulla promozione di tanti prodotti tipici, da anni siamo impegnati insieme al patron Risiero Severi sulla promozione dei legumi di San Sisto, dove facciamo anche tante serate in tanti ristoranti della provincia, non solo del Monte Feltro. Siamo molto soddisfatti di seguire da tanti anni come Confesercenti questa manifestazione. Non vedevamo l'ora che si poteva ripartire, già dall'inizio dell'anno quando si capiva che era possibile poter fare ci siamo messi in movimento per riorganizzarla, perché a noi ci vuole un po', anche perché siamo pochi per coordinare un po' tutti e c'è molto lavoro, dobbiamo iniziare molto prima per fare tutte le varie operazioni, oltre che il programma anche per l'accoglienza dei tanti visitatori che ci vengono a trovare con tutte le strutture che dobbiamo mettere in piedi, poi la collaborazione con gli altri enti che ci danno la collaborazione, dalla Confesercenti, l'ente Parco, le varie amministrazioni della provincia, l'Unione Montana, per fare tutti questi incontri ci vuole del tempo. E chiaramente ci saremo anche noi a riprendere questa nuova edizione della Festa del Fungo, invece adesso torniamo a parlare di sport, Vallefoglia celebra infatti le gesta sportive di una sua concittadina salita sul tetto d'Europa. Parliamo di Elisa Mainardi che nei giorni scorsi ha rappresentato l'Italia vincendo l'Europeo di footvolley in finale contro l'Olanda. L'Italia femminile di footvolley è sul tetto d'Europa e a portarle sul gradino più alto ci ha pensato alla pesarese Elisa Mainardi in coppia con Sara Cuppellini. Un torneo di tre giorni svoltosi a Roma dal 9 all'11 di settembre dove la nazionale italiana, rappresentata dalle due giocatrici, si è laureata campionessa europea. Un orgoglio enorme per Elisa, 35 anni di Bottega di Vallefoglia, che a una settimana di distanza da quel magico trionfo, è stata premiata anche dal sindaco del suo comune di residenza, Palmi Rucchielli. Una settimana è passata e ti dico che ancora non riesco bene a realizzare quello che abbiamo fatto. L'emozione che ho provato quando quella palla è uscita dopo il servizio è qualcosa che non avevo mai provato prima, qualcosa che mi ha tolto il respiro. È stato un percorso di crescita a livello anche molto personale, quindi forse il traguardo più bello che ho raggiunto. Abbiamo fatto la prima partita dei gironi venerdì, come ogni nazione aveva la prima partita del girone il venerdì, per poi proseguire il giorno dopo. Abbiamo incontrato subito l'Olanda ed è la nazione che in questo momento ha il ranking di un più alto europeo. Abbiamo vinto, siamo state bravissime, molto precise e abbiamo chiuso così la giornata del venerdì con una vittoria subito nel girone. Poi abbiamo incontrato Spagna e Svezia e abbiamo chiuso il girone con tre vittorie su tre. Non ce l'aspettavamo, anche se le previsioni delle responsabili del football italiano non avevano dubbi che avremmo comunque fatto la nostra parte. Ci siamo qualificate direttamente ai semifinali con tre vittorie su tre. Abbiamo giocato la domenica ai semifinali con la Spagna, che ha vinto inaspettatamente contro l'Austria, che erano due ragazze molto forti. Abbiamo vinto due set contro uno ed è l'unico set che abbiamo perso al torneo. Quindi siamo state proprio brave, perché siamo sempre state concentrate, abbiamo sempre concesso poco, per poi chiudersi con la finale di domenica pomeriggio, che è un'atmosfera bellissima, tanta gente, c'era molta tensione, ma è stata un'emozione indescrivibile. È una doppia soddisfazione, è un onore per me aver avuto questo riconoscimento, perché comunque sono nata qua e soprattutto per dare un bel impatto ai giovani sullo sport, che devono comunque praticarlo, perché il lavoro, la passione, prima o poi qualche obiettivo, qualche soddisfazione ci ritorna indietro. Ne ho l'esempio perché a 35 anni ho vinto il mio campionato europeo di foot dopo tanti anni di sport, sia come palavolo che come calcio. Mi sono avvicinata grazie ai ragazzi del football di Pesaro, che l'estate dopo il lockdown io vengo dal calcio e mi conoscevano come nome, come ragazza, e mi hanno chiesto vieni a provare, vieni a provare, perché comunque di femmine in Italia non siamo tantissime, siamo molto sparse in tutta Italia, quindi per unificarle. Io sono andata un sabato mattina e me ne sono subito innamorata, ho provato tanti sport dopo il calcio, ma niente, mi aveva dato comunque quell'emozione, quell'adrenalina e il football io ho trovato tutto quello che avevo lasciato quando ho smesso di giocare. Portare Vallefoglia in Europa per noi è una vera soddisfazione davvero straordinaria, quindi siamo grati, gli abbiamo consegnato un piccolo pensiero doveroso e un in bocca al gruppo, chissà, anche per i campionati del mondo. Credo che sia veramente una forza della natura, siamo pieni di gioia e di soddisfazione, sia la Giunta, la città, ma penso l'insieme del Consiglio Comunale. Davvero complimenti ad Elisa Mainardi, invece adesso vi raccontiamo quella che sarà la prima serata di Rossini TV, partiamo con due appuntamenti molto interessanti, il primo alle 21.20, vi racconteremo questo convegno molto importante organizzato da Marche Nord, dedicato all'oncologia, tutte le novità, la ricerca, la cura, tante cose molto interessanti che vedrete riassunte questa sera alle 21.20. E poi subito dopo invece parleremo di politica, questa è la sintesi che Confcommercio Pesaro Urbino Marche Nord ha organizzato di un dibattito che vede protagonisti, i candidati del territorio che sottoscrivono per le prossime elezioni nove punti programmatici stabiliti e richiesti proprio da Confcommercio. E poi vi ricordiamo l'appuntamento con la nostra rassegna stampa domani, vi aspetto alle 7.20 in diretta sul canale 80 e anche sulla nostra pagina Facebook. Poi vi ricordiamo che sabato 24 settembre, giorno del Santo Patrono di Pesaro, vi trasmetteremo alle 18 in diretta la Santa Messa in diretta appunto dal Duomo di Pesaro. E sabato, anche se è festa nel Comune di Pesaro, noi saremmo pronti e puntuali, ci sarò io con voi per il consueto appuntamento del sabato mattina con la nostra rassegna stampa, quindi vi aspetto alle 7.20. Ho detto tutto carissimi amici, grazie per essere stati con noi anche questa sera, il consiglio è sempre quello di seguirci sui nostri social network Facebook e Instagram e scaricare gratuitamente la nostra applicazione. Buona serata.